Questo video riguarda i migliori tre armadio per esterni. Il vincitore della qualità è il Terry C. Wood Armadio. Terry organizza il tuo spazio, azienda italiana riconosciuta per i suoi prodotti innovativi, dal design unico. Caratteristiche Armadio a tre ante, con due vani separati, un vano tuttopiani con tre ripiani e un vano libero a sviluppo verticale. Dispone di un vano a tuttopiani ottime per ripore oggetti a sviluppo orizzontale e di un vano libero per il riponimento di oggetti a sviluppo verticale. La finitura legno dei panelli in plastica lo rendono molto gradevole sia per utilizzo interno casa sia per esterno in ambienti protetti quali balconi, terrazze, portici, patio, verande. Armadio multifunzione grazie ai due vani. Design moderno che si adatta anche all'arredo giardino. Ripiani regolabili in altezza per adattarli ad ogni esigenza. Le porte di aprono a centottantesimo per facilitare il riponimento degli oggetti. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Keter Armadio Gilliver. Con armadio porta Multispace Gulliver XL dal design elegante. Risolve i problemi per organizzare lo spazio, dotato di otto ripiani regolabili con portata massima di 15 kg, piedini regolabili, fondo rinforzato, cerniera in metallo, possibilità di chiudere con lucchetto non incluso. Prima di iniziare l'assemblaggio leggere attentamente le istruzioni. Materiale di alta qualità e durevole nel tempo. Terrazzo, lavanderia, cantina e garage, fissare l'armadio a muro, viti e tasselli non inclusi. Il vincitore del premio è il Terry Cirattan Armadio. Azienda italiana riconosciuta per i suoi prodotti innovativi dal design unico. Caratteristiche Armadio a tre ante, con due vani separati, un vano tutto piani con tre ripiani e un vano libero a sviluppo verticale. Plastica effetto Rattan L'effetto Rattan dato alla superficie esterna delle ante, conferisce un design moderno, adattabile all'arredo giardino. Apertura facile e comoda, chiusura sicura, le porte si aprono a 180 gradi. Predisposizione per lucchetto Prodotto eco-friendly Questo prodotto è realizzato per il 97% con plastica riciclata. I pezzi WX9 non sono necessari per assemblare questi armadi. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.